Il paradiso può attendere delle ricerche su animali già istinti e perché si sono istinti. Altri invece hanno fatto delle ricerche su animali in via d'istinzione e le loro cause. Infine abbiamo messo insieme le nostre ricerche e inventato questa storia. L'animale della storia mi sono perfezionato è l'oro perché anche essendo un animaletto semplice, mite, ha compiuto una bella impresa. Tutti i giorni per salvaguardare l'ambiente quando esco non butto le cartacce per terra. Faccio la raccolta differenziata e non raccolgo fiori. Ogni giorno io, quando mi lavo i denti, chiudo l'acqua del rubinetto. Io, per salvaguardare l'ambiente, spengo sempre le luci. Per aiutare gli animali in pericolo, io, che sono sapiens sapiens, che non sapiens niente, non inquinerei. Prenderei sempre la bicicletta. Io diminuirei il disboscamento. Io non inquinerei l'acqua. Uno, due, tre. Noi siamo Belli e del... Per aiutare gli suportandoli!